Non saprei dire esattamente il momento in cui tutto è iniziato. Incominci dall'incomincio allora. Beh, come dire. Adry e Chu mi hanno tramortito e sequestrato all'improvviso. Era una notte di luna Pierpaolo e stavo digerendo la peperonata della settimana precedente su un'amaca dell'Ikea. Non sapevo cosa volessero da me. Dalla stiva sentivo Adry dire cose come venderemo i suoi organi al mercato nero. Ma le mie memorie sono molto confuse. Mi sembra che un sequestro sia un momento abbastanza preciso e delimitato nello spazio. Eh, però volevo partire con lo sfondo nero dicendo così. Comunque, non lo so, dottore. Sento come di star facendo una parte ingrata. E io che dovrei dire? Che non compaio nella serie dal 2016 che ora finalmente torno in scena e apparirò come uno schifoso barista. E c'è pure ragione. Fai schifo, Fionai. Lo so. Fionai. 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 Grazie a tutti.